E il tuo pronostico sulla partita Algeria-Russia Coppa del Mondo? Forza Fabio Capello, 2-0 Russia, di sicuro. 2-1 per la Russia! Sì, 2-1 per la Russia! Oh, è minimalistico, penso 1-0 o 2-1 Russia. 1-0 o 2-1 Russia? Sì. Grazie. Ma io spero che vinca l'Algeria, anche perché nell'Algeria c'è il giocatore dell'Inter, Sarpir Taider che mi piace un sacco, anche se Capello è un allenatore molto bravo e possono essere ben organizzati, ma spero che vinca l'Algeria. Forza Taider! Grazie! Io e i miei amici credo che sarà 3-1 per la Russia. Per la Russia? Sì, per la Russia. Russia, andiamo! Russia! 3-1! 3-1! Grazie! 2-1 per la Russia! Per Fabio Capello? Sì, Fabio Capello. Grazie! Niente! Grazie! 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 Grazie!